musica 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 ragazzi abbiamo fatto il 3 ragazzi che probabilmente tra non molto tempo uscirà il 4 ragazzi quindi vabbè io direi di cominciare il primo poi il secondo il primo finirlo secondo finirlo e il terzo finirlo fermi da una vita sulla notte 3 quindi ragazzi facciamo new game e si parte così alla grande ovviamente la prima notte servirà servirà più che altro a farci orientare su come funziona vabbè però ragazzi lo dobbiamo fare la prima notte non succederà un cazzo ma fa niente noi la facciamo lo stesso come ho appena spiegato bro la notte 1 è totalmente noiosa quindi facciamo che velocizzare tutto e ci vediamo la notte 2 a dopo cominciate con mettere mi piace la notte 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 con la notte la notte la notte Just stay with me while we need Stay with me while we need Don't worry, just believe me Just go away Just stay with me Stay with me Stay with me Vabbè dai, era facile Seconda Seconda notte ragazzi, si va avanti Ragazzi la prima notte è facilissima Mi sono cagato leggermente sotto Mi sono cagato leggermente sotto un paio di volte Quando ho alzato il tablet Va bene Lo sai qua Sì eh si quindi c'è non è necessario guardare tutte le stanze ragazzi c'è è necessario solo guardare le porte poi il 2 è un pochettino più difficile perché vabbè ovviamente devi guardare anche dritto cacca puttana sono carato sotto non me l'aspettavo sinceramente ho spento la luce l'ho riaccesa voglio a Kenya sto beccato una sorpresa grande la rima oh 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 f*** adesso che ho preso per il culo adesso mi massacra va bene eh si adesso i giochi oro, sto facendo più giochi oro sul canale così almeno mi ci abituo e ogni tanto li faccio capito non per altro poi la serie di crash ovviamente continua ragazzi continua tipo domani fa un f*** madonna raga la notte 2 è più inquietante la notte 2 è più inquietante ok i'm dead morto oh cazzo what the f*** sei uscito cazzo ah yes aia madonna di quella madonna ah vaffanculo grazie 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 per essere tenere andata ringrazio veramente tanto e niente aia 3 6 yeah notte 3 ragazzi notte 3 già si muovono ragazzi porca puttana non so di che parlare aah sii ragazze ok what the f*** cos'era golden freddy golden freddy golden freddy per favore golden freddy madonna questo è secondo oh cazzo non l'ho mai incontrato golden freddy non l'ho mai incontrato non l'ho mai incontrato questo potrebbe essere la prima volta forse credo spero di no però vabbè perchè non so non so come ci si comporta ok ragazzi la notte 3 è la più inquietante è la più inquietante secondo me a parte la notte 5 ok siamo alla 1 di notte mi sto cercando in mano va bene ok oh what the f*** bene cioè oddio io ho visto tanti youtuber ma tanti youtuber che sono arrivati alla notte 5 figata impossibile impossibile soprattutto quando senti uh 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 cioè non sai come comportarti se chiudi la porta ti appare da dietro se lo lasci andare dopo un po' tappare non so come cazzo ti devi comportare ok 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 avete sentito eh sono cagato in mano mi è partito il mouse ecco ecco se avevo chiuso prima probabilmente faceva fare il jumpscare che è spavento fa cagato in mano eh va bene ok ok oh mamma mia pro scafò più veramente non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno no no uuuuuh alve ok ah mi lascio chiuso ok oh madonna andè sono matto ragazzi ok oh madonna oh madonna no oh madonna oh madonna Bene Chi è dietro? Porca puttana Sono morto Probabilmente Probabilmente sono morto Probabile sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto SEM SEM Porca puttana SEM SEM Thank you Madonna Notte 4 Non la facciamo in questo episodio ragazzi Lo facciamo nel prossimo episodio ragazzi Quindi adesso lasciate subito un mi piace ragazzi Anche la pagina di facebook ragazzi Ricordate un commento nella descrizione Un commento nella descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Ho i buo I buo Yes motherfucker Woo Paccacare te No A Chim No 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 Grazie